Dopo lo stop dello scorso anno causa Covid, oggi in occasione della ricorrenza del 4 novembre a Montesilvano all'esterno del Paladin Martin, l'amministrazione comunale in occasione della festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate ha organizzato l'evento denominato Villaggio degli Eroi per far conoscere soprattutto ai ragazzi delle scuole chi si occupa quotidianamente della sicurezza nella società civile. Non solo Forze Armate ma anche associazioni di volontariato schierate tutte sul piazzale antistante il centro congressi di Montesilvano. Anche quest'anno in occasione del 4 novembre, peraltro quest'anno ricorre il centenario della ricorrenza del Milite Gnoto, abbiamo voluto riproporre il Villaggio degli Eroi, un villaggio allestito con degli stand da parte delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate e anche dagli enti volontari che ogni giorno prestano un servizio importante al territorio per avvicinare le nuove generazioni a coloro che in divisa ogni giorno svolgono un importante ruolo e lo abbiamo denominato Villaggio degli Eroi perché abbiamo voluto che i bambini, i ragazzi, oltre ai supereroi immaginari della televisione, conoscano in realtà chi davvero si avvicina a quello che sono i supereroi televisivi, svolgendo ogni giorno un'attività che ci preserva da atti criminali, delinquenziali, ma non solo, ma anche a chi in condizioni particolari presta assistenza come la protezione civile per fare un esempio, ma anche la Misericordia, la Croce Rossa e tutti coloro che si occupano della sanità pubblica. È bello, Sindaco, vedere oggi tanti ragazzi delle scuole di Montesilvano qui dinanzi al Palazzo di Marte. Sì, tanta soddisfazione, ringrazio i presi degli insegnanti che hanno risposto all'appello portando tanti ragazzi ad assistere appunto a questa manifestazione, una manifestazione che Montesilvano ha voluto fortemente e che vorrà riproporre anche in futuro perché ritiene importante in questa giornata dare spazio appunto a chi ogni giorno svolge un'importante attività e soprattutto per ricordare quanto queste persone in divisa in passato ma anche oggi rappresentino un ruolo importante per quello che riguarda anche il mantenimento di valori quali la pace e la sicurezza.